Fai una dieta in particolare? Ah è vero, per avere questo fisico tra l'altro, perché è una bestia, è una bestia cazzo Ma che bestia! Sono rilassato, ora sono rilassato Che domine! Dunque sempre 50 zone, quindi... No, no, l'alimentazione è molto importante, l'attività che facciamo è utile, però se poi mangi male è un disastro Io credo che ho fatto una dieta di 20 anni, quindi non voglio fare più la dieta, voglio mangiare magari poco E' importante la quantità e soprattutto cercare di levare le cose che fanno più male Ma se mangi poco, già aiuta secondo me a stare bene, perché non è facile Consigli perché...